Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, io ho detto ai ragazzi di alzare la testa che questa è la strada giusta, di sicuro non siamo quelli contro il Matera, quelli contro l'Andrea, oggi secondo me il risultato è molto 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 pesante. Oggi sono orgoglioso dei miei ragazzi, dobbiamo andare avanti così, crederci di più, vogliamo la mano da parte di tutti, siamo un po' pochi, un po' risicati, questo mi dispiace sentire le contestazioni del pubblico perché questi ragazzi oggi hanno dato veramente tutto. Non è facile però non ci arrendiamo, non ci arrendiamo e combatteremo ogni partita. Oggi è stata partita, comprendo a favore in un certo modo, poi al contrario, e se non ti adatti ad alcune situazioni dove noi giochiamo di più, poi non ci sono le condizioni in alcune partite al campo per fare alcune cose, se non arrivi ad adattarti in quella situazione vai incontro a tante difficoltà. E la squadra l'ha interpretata in quel modo, ma la sofferenza, ma noi non siamo una squadra che deve stare sempre là e deve convivere con le difficoltà che crede, perché anche gli avversari hanno qualità, anche gli avversari hanno idee, hanno intensità e hanno organizzazione. Grazie. Grazie. Grazie.